Vediamo se Peppe si fa recuperare a qualche minuto. Io spero, spero di essere molto più rapido, di toni. No, nel senso che vorrei partire da due considerazioni. La prima è Bette, io lo chavo Bette, così l'ho sempre chiamato. Ho conosciuto il periodo di piccoli per le acrime, molto interessante, molto creativi, molto riuschi. Siamo andati in crisi, avremmo avuto degli imbessi problemi, ma erano momenti rettissimi, in cui ci si confrontava apertamente, in modo democratico e anche in modo innovativo. E una cosa che mi incontriva di Bette, perché l'ho conosciuto, se tutto vicino a me, continuano a dire. Ma dimmi un po', ma cosa succede a Torino? Che cosa state facendo? Perché sta succedendo questo? Aveva questa curiosità conoscitiva che era fondinabile. E io gli ho raccontato un piccolo episodio che racconto anche qui, un episodio che viene trascurato nella bibliografia storica, anche nel movimento cattolico torinese. Io gli dissi, guarda, noi a Torino abbiamo padre pellegrino. Sai com'è venuto poi il padre pellegrino? Molto poi, hai tante motivazioni che un certo Monsignor Livio Maritano, allora non Monsignore, ma collaborava col Mescovo Precedente nel 62, 63, 64, fece una ricerca sui cappellani alla Fiat. E da questa ricerca risultava che i cappellani alla Fiat erano al servizio padronale. Cioè nel senso che erano il distributore di immaginette, di tranquillizzanti nelle lotte, eccetera, eccetera. E questo Monsignor Livio Maritano, sicuramente quando si è trattato di sostituire l'escovo precedente, era il sostituto naturale. Ma un certo professor Valletta, su indicazione dell'Avvocato Agnelli, andò in Vaticano a dire che la Fiat non concordava con la nomina di un prete che aveva osato fare questo tipo di ricerca di approfondimento. E si beccavano Padre il Pellegrino. Va bene. Esatto. È una curiosità che è bene che venga sempre punta presente. La seconda cosa che mi coltiva di Beppe era mai io sempre noi. Cioè mai io sempre noi. Quindi era un collettivo che affrontava i problemi. Non era un qualche cosa di individualistico. Ecco perché sono d'accordo con Marco. Lui non aggognava da aggiungere, diciamo, cariche di un certo tipo, eccetera. Ma queste due cose mi hanno sempre colpito. Anche quando si discuteva come andiamo in minoranza, come affrontiamo il problema della risposta alla gerarchia, al Papa, eccetera, eccetera. Questo era un sentire comune, una curiosità che ci coinvolgeva. Faccio un altro flash di un certo determinato tipo. Voglio ricordare a tutti, ma prima di tutto a me stesso, che in quel contesto in cui lavorò Beppe, lavoravamo tutti noi, era un contesto di un certo tipo. Era un contesto dove è venuto fuori il Consiglio, un certo Giovanni XXIIIesimo. Era un contesto di rotte operarie studentesche, non ancora formalizzate, ma nelle fabbriche c'era sommovimento, ricordo anche certe posizioni della FIM, eccetera, eccetera, che innovavano e che portavano il sindacato giallo, eccetera, eccetera, proprio perché c'era questo tipo di innovazione. Si lavorava, c'erano le onde per la liberazione dei popoli, c'era un sommovimento mondiale, non solo in America Latina, ma anche in Africa, venivano pure delle cose interessanti, dei piccoli e grandi movimenti, che mettevano in discussione l'egemonia colonialista o imperialista, chiamavola come vogliamo, e chiedevano autonomia, un ruolo, un ruolo autonomo, un protagonismo, un giusto protagonismo, una giusta ugualianza. E questi erano i contesti in cui ci siamo. L'altro contesto era una cosa che va proprio messa in evidenza. Si lavorava per la centralità della persona, sia nella fabbrica che fuori dalla fabbrica. La persona diventava l'argomento prioritario. La persona ha il diritto di essere protagonista di avere giustizia nella fabbrica, nella fabbrica dove la Costituzione proprio non c'era, ma anche nella società. Pensiamo alle lotte per i quartieri spontanei, alle lotte per la casa, c'era un movimento, alle lotte anche nel campo contadino, c'era una contestazione alla colli di reti, c'era un qualche cosa che si muoveva in un contesto, e quindi quando si facilitava, si poteva dei problemi a cui era inevitabile rispondere. E poi un problema che io voglio mettere in evidenza. Si discuteva tra lotta violenta e lotta non violenta. Era una discussione interessante, che non era un problema marginale, a fronte dell'esigenza di cambiare. Con quale metodo si cambia? E questa discussione non era facile da affrontare, perché chi viveva la condizione estrema di sfruttamento era un po' difficile dirgli che non doveva dare uno sganastone al capo, per dirla in termini molto concreti. Quindi era una discussione che stava dentro. Anche noi non avevamo questo problema, e veniva avanti. E non per nulla erano i tempi in cui c'era la disobbedienza civile, c'era il discorso delle autoriduzioni, riappropriarsi del diritto di avere il minimo indispensabile, c'era la contestazione alle spese militari e al servizio militare, la conquista dell'obiezione di coscienza, cioè aspetti e problematiche di quanto alle quali, se uno era immerso, come le ACRI, come tutti noi, eravamo immersi nei processi contradditori della società, non potevano fare il conto con questa situazione. Ecco perché le tensioni della società, le domande della società, si sono riversate anche dentro le ACRI. Ecco perché si è arrivati anche al congresso di Torino, che non era una decisione estemporanea, era tutto più un lavoro, era tutto fatto nelle ACRI, Emilio lo sa molto meglio di me, era un lavoro preparatorio, anche di ufficio studi, di formazione, di responsabilizzazione, che ha portato a creare una classe dirigente che ha cercato di gestire le conseguenze delle scelte di autonomia, di fine del colonialismo e della scelta del movimento operale, poi il congresso di Torino. La domanda era come attualizziamo questo, come lo realizziamo. Questa domanda qua aveva delle interpretazioni diverse, ma il punto, secondo me, cruciale delle ACRI allora è stato questa scelta di autonomia e della fine del colonialismo. Secondo me è la valora che ha fatto scattare anche le decisioni, cioè il contratto politico che abbiamo avuto, e anche certe freddezze che anche di certa parte del movimento sindacale, e non parlo della ACRI, perché in un confronto anche molto aperto con compagni della CGL ci siamo pure sentiti dire fate bene una concludenza, state attenti, cercate di non forzare oltre a un certo determinato lì, cioè erano problematiche, stavano dentro. Tornate nella DC? Sì, qualcuno ha anche questo, diceva, no? Naturalmente posizione intera per la CGL, perché certamente, faccio l'esempio, orari di Guattolino, orari di Garamigio, di Giovanini, o di Alco, o di Trentini, eccetera, diverse, no? Però abbiamo avuto anche questo, questo tipo di problematica. Qui abbiamo avuto delle problematiche aperte con il mondo cattolico, con la nostra tradizione, la nostra storia, e anche con problematiche che pur portandoci a innovare ci prendono dei punti interrogativi. Ecco, io questo lo voglio dire perché è frutto di una discussione abbastanza forte. Che tipo di conseguenze? E guardo la conclusione che possiamo trarre. Ecco, allora, la situazione era complessa come brevi oggi. Era una situazione estremamente complessa, difficile da leggere. Non era così semplice. Non era così... Cioè, era così semplice. Era complessa. Ecco, noi abbiamo cercato di affrontare la complessità in modo collettivo, partecipativo. Anche, diciamo così, ognuno di noi dava quello che poteva dare, ma essendo un collettivo, il collettivo dava la risposta collettiva, non era la risposta individuale. Questo modo di lavorare collettivamente, insieme, dava la risposta alla società, ai problemi complessi che la società ci poneva. La realtà di oggi non porta allo stesso tipo di conseguenza, allo stesso tipo di esigenza? Per me, sì. Ognuno, allora, si sentiva protagonista, ma questo comportava preparazione, elaborazione, verifica, delle proprie iniziative ed erano le cose che facevano direttamente queste, non erano cose, Di fronte alle crisi epocali, che sto concludendo, la risposta non può che essere la creatività al potere. Cioè, io penso che di fronte a una complessità difficile da leggere, ci vuole creatività per raggiungere il potere. Se non sei creativo, se non sei innovativo, se non hai dei punti perdi, come l'eguaglianza, la giustizia, la pace, naturalmente non puoi raccontare questa situazione, ma la creatività al potere, oggi secondo me, è la risposta. La creatività vuol dire anche organizzazione, creativa, innovativa, diversificata. Forse erano un po' queste anche le cose che da allora, no? Noi abbiamo imparato e che oggi modestamente possiamo non trasferire, ma in qualche modo portare al libero dibattito. Grazie. Grazie. Un po' lunga cerchiamo di appreviare. Se fate parlare è sindacalista. Esatto. E Dolores... Grazie.